Ha funzionato! Ora ne abbiamo una copia sul nostro foglio. Andiamo subito da Sam, ragazzi! Jack, avvicinati a Maialino No! Molto lentamente! Trovate quelle tre porte e troverete il Pachy Pagliaccio! Beh, è stato divertente, vero, Dougie? Smettila, Dougie! Chi è stata la brillante idea di suonare i clacson tutti insieme? Di Sandrino! Il mistero è svelato grazie al genio di Sandrino e di tutti noi! Per oggi è tutto, ragazzi! Maialino No! alla fine è riuscito a ritornare sano e salvo a terra grazie a Sandrino e alla sua squadra! Grazie!